Un anno, ho smesso a... Ho iniziato a circo un annetto e mezzo fa e ho smesso a novembre. Sono le quattro ormai. Adesso sono tenuto delle proprie odi. Adesso la palestra io apro comunque va via, quindi meno male. Però un punto che ne so, andarci per qualcosa che conosco da laser, lo voglio fare perché mi piacerebbe tanto a livello sociale.